Calciomercato Milan, il club rosso-nero nelle prossime sessioni di mercato, andrà alla ricerca di un vice di Frank Kessie, un centrocampista fisico in grado di dare sostanza e dinamicità al reparto. L'Ivoriano è un elemento unico all'interno della mediana del Milan. Se non fosse rimasto Juraj Kuka, mister Vincenzo Montella avrebbe avuto un sostituto da impiegare in caso di turnover, ma lo Slovacco è stato ceduto per 5 giugno milioni di euro al Trabzonspor, stesso club dove è finito, anche Giuse Ernesto Sosa. Adesso Vincenzo Montella deve trovare un vice dell'ex Atalanta. Questo profilo potrebbe arrivare già a gennaio oppure nella prossima estate. Calciomercato Milan, piace Fofana dell'Udinese secondo alcune indiscrezioni di Calciomercato Milan, tra i calciatori nel mirino di Massimiliano Mirabelli ci sarebbe Seco Mohamed Fofana dell'Udinese. Il 22enne Franco Ivoriano è un talento molto interessante, e, stando a quanto rivelato da Calciomercato.com, il direttore sportivo Rosso Nero apprezza molto il giocatore, e così anche i collaboratori del suo staff, che saranno presenti più volte alla Dacia Arena per seguirlo da vicino. Il Milan aveva guardato in casa Udinese già per Giacob Juncto, chiesto senza successo negli ultimi giorni della sessione del mercato estivo. Adesso nel mirino c'è Fofana, altro centrocampista in forza alla squadra di Luigi Del Neri. Il talento classe 1995 già nella passata stagione ha messo in mostra buone qualità, ed ha attirato l'attenzione di club importanti. In Italia soprattutto la Juventus ha chiesto informazioni, avendo un rapporto privilegiato con l'Udinese da anni. Dall'estero erano arrivate da circa 10 milioni di euro dal Red Bull Lipsia, e dal Borussia Dortmund, ma il club bianconero non le ha accettate. La società friuliana punta ad incassare molti più soldi di quelli proposti finora. Se Fofana giocherà con continuità, e si esprimerà su ottimi livelli, sicuramente sarà tra i profili oggetto di trattative nel prossimo mercato estivo.